Non è andata, abbiamo fatto un po' fatica, ma credo che dal gennaio un po' ci siamo ricompattati, abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti, quindi adesso mancano queste due partite che decidono una stagione, pensiamo una per volta e poi vedremo. Una gara per volta, dice Giacomo Casoli, centrocampista della Fidelis. Si riferisce ovviamente alla doppia sfida che per l'Andria vale tutto, vale la conferma della categoria professionistica dopo una stagione sicuramente complicata ed altalenante. Tutto azzerato però, valgono solo le due partite contro la Paganese, play-out d'andata. Sabato prossimo a Pagani, play-out di ritorno sette giorni dopo al Degli Ulivi. Adesso il passato diciamo che conta poco, conta il presente, queste due partite, anzi la prima perché dobbiamo pensare partita per partita. I precedenti della stagione regolare sorridono entrabbi alla Fidelis, corsara 1-0 a Pagani l'andata con gol di Gaeta, vittoriosa anche in casa al ritorno sempre con il punteggio di 1-0, correte decisiva di Urso. Quanto riguarda la partita d'andata è stata una partita bella, penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione, pure al ritorno abbiamo fatto bene, però nei play-out si azzerano i valori, quindi non basiamoci su due partite, pensiamo esclusivamente a sabato. Ai Biancazzurri basterà realizzare lo stesso numero di gol dei Campani nell'arco dei 180 minuti per centrare la conferma della categoria in virtù del miglior piazzamento ottenuto rispetto alla Paganese. Non bisogna pensare secondo me alle due partite, bisogna giocarcela sia all'andata che al ritorno e cercare di prevalere, solo questo perché se pensiamo al risultato facciamo fatica secondo me. Cassoli ha fatto gol proprio all'esordio con la maglia della Fidelis del 1-1 contro la Juve Stabial degli Ulivi, era il 29 agosto, più di otto mesi dopo si candida per essere determinante nel momento più importante della stagione Biancazzurra. È una bella cosa, sì sicuramente, il primo gol è stato inaspettato dopo un minuto dopo che era arrivato veramente da pochissimi giorni, speriamo che sia così anche il 14 maggio.